Il tema di quest'anno, da un lato, è la storia dei monasteri medievali, ma soprattutto dei monasteri fortificati, esattamente come i Libari. Il Libari è questo monastero, ma è nato nella Crocoro, in questo montarozzo di Libari, che è il centro della città storica del passato, il cui centro era questa cattedrale con il chiostro. Tutto attorno c'è un sistema di fortificazioni, che erano fortificazioni di epoca greca, di epoca medievale, ma anche di Carlo V, re di Spagna e della Pietà del Cinquecento. E non ci scordiamo che l'inizio dell'undicesimo libro dell'Odissea inizia con l'incontro di Ulisse con l'isola galleggiante, dove abitava il re Eolo, l'isola delle Mura di Bronzo.